Nella stragrande maggioranza sconfitte purtroppo le squadre della nostra provincia nella ventiquattresima giornata del campionato di calcio di promozione Ligure, Girone B, lo stesso Marola Quasanta, che pur conferma in tal modo il proprio buon momento, si impone sì per 2-1 alla storre Tanca, ma a scapito di un'altra squadra provinciale, ovvero il Don Bosco Spezia che così conferma, per quanto bene abbia fatto finora, le proprie difficoltà a spiccare definitivamente il volo verso la zona playoff, alla quale si riavvicina invece il Levanto che torna a vincere per 2-1 a Moltedi, peraltro a scapito di un caperanese quarta in classifica. Passando poi con le immagini da Marola Quasanta a Don Bosco, a Cadimare, Golfo Paradiso, Prorecco e quindi al Bibolini di San Terenzo, e venendo alla parte più bassa della graduatoria, non si poteva chiedere di più al Cadimare, di fatti sconfitto a Falconara per 3-1 dalla super capolista Golfo Paradiso, per il resto battuti per 2-1 sia il follo a domicilio dal Little James che la Tarros Sarzanese a Genova dal Molassana a Boero. Infine, cambiando ancora di immagini e venendo a Luigi Camaiora di Santo Stefano, sfiora la clamorosa rimonta il Magrazzurri contro il Bogliasco, i Santo Stefanesi infatti in svantaggio per 3-0 all'intervallo, nella ripresa si portano sul 3-2, sfiorano il Pari. Per concludere, venendo al fronte prettamente genovese, San Desiderio-Vallescrivia 1-1 e Marassi-San Margheritese 0-2.